Se non riesci a capire se qualcuno sta mentendo, puoi essere manipolato facilmente, tradito o derubato, e non averne idea finché non sarà troppo tardi. Per cui, nel video di oggi, ci occuperemo di 9 trucchi per riconoscere un bugiardo. E lo faremo analizzando alcune clip di attori che mentono in merito al film Spider-Man No Way Home. Attenzione, ci tengo a precisare che in questo video troverai alcuni piccoli spoiler del film. Ora, la prossima cosa potrebbe sorprenderti, ma la maggior parte dei bugiardi inesperti cercano sempre di evitare di mentire esplicitamente. Guarda questa clip veloce di Tom Holland, per vedere cosa intendo, e fai caso al suo linguaggio fisico. Tom qui cerca di evitare di mentire, evitando del tutto le risposte. Ma anche se è facile trattenere le parole, è molto più difficile nascondere le tue microespressioni. In questo caso Tom muove le mani, il che potrebbe essere un segno dell'agitazione provocata dalla domanda. E se noti bene, sta anche trattenendo un sorriso. Quando qualcuno cerca di nascondere qualcosa di cui è eccitato, non è assolutamente strano vedere un sorriso veloce e represso. E pensa che c'è addirittura un sorriso più oscuro e sinistro, che potresti vedere in situazioni simili, quando qualcuno sta mentendo. Ed è conosciuto come Duper's Delight, oppure Delizia dell'inganno, ed è un sorriso veloce che deriva dalla gioia di averti mentito. La prossima clip è di una madre che ha ucciso i suoi stessi figli. In questa intervista, che risale a Prima che diventasse uno dei sospettati, puoi notare quanto strano appare il suo sorriso, considerando le sue parole. Questa è una frase bizzarra da dire con un sorriso. Facci caso ancora nella prossima clip, sta parlando di quanto, secondo lei, amasse i suoi figli. Eppure, deve contenere un sorriso proprio dopo aver mentito e detto me li hanno portati via. Se vedi qualcuno che trattiene un sorriso, quando ti sembra inappropriato, potresti esserti imbattuto nel Duper's Delight. Altri segnali a cui far caso sono uno sbattimento di occhi esagerato, la respirazione veloce e breve, un tremolio nelle gambe, oppure un continuo deglutire. Ma prima di pensare che qualcuno stia mentendo, basandoti sul suo linguaggio fisico, è estremamente importante stabilire prima una base del loro comportamento normale. Ed è proprio per questo motivo che gli investigatori dell'FBI cominciano i loro interrogatori con domande completamente staccate dal caso. Devi capire come qualcuno si comporta normalmente prima di poter capire se sta mentendo o meno. Per cui, per passare al prossimo modo per smascherare una bugia, cominciamo guardando una risposta onesta da Andrew Garfield. Questo passaggio è necessario per stabilire una base di comparazione per come si comporta nell'intervista solitamente. Allora, qui ha risposto in modo molto deciso e con nessuna esitazione. Ora, facciamo un confronto con la prossima clip in cui gli viene chiesto se è in Spider-Man No Way Home. Andrew dà una risposta molto leggera, con molta meno convinzione rispetto al solito. Sta anche esitando e allunga le sue parole, e sono entrambi i modi per guadagnare tempo e capire cosa dire dopo. Un rifiuto leggero da solo non prova che qualcuno stia mentendo, ma lui continua subito con un altro segnale che indica la bugia, il test dell'inganno. Il test dell'inganno avviene quando qualcuno cambia i dettagli della sua storia mentre cerca di trovare la bugia più convincente. Per un esempio, ascolta come Andrew risponde a questa prossima domanda. E questo è il suo primo tentativo. Poi però capisce che non sarebbe realistico non aver visto una foto così virale di se stesso, per cui cambia improvvisamente la sua storia. Nella tua vita, quando sospetti che qualcuno ti stia mentendo, fagli delle domande che gli facciano ripetere aspetti diversi della storia, e poi prendi nota dei dettagli che cambiano. Quando il suono leggero non ha convinto le persone e Jimmy, Andrew è passato all'atteggiamento di Tom e ha deciso di evitare proprio di rispondere. questa è una strategia che potresti vedere anche nella tua vita. Qualcuno si comporterà in modo infastidito da una domanda per poter evitare di rispondere. Prendilo come un segnale d'allarme se qualcuno cerca di farti smettere di fare domande facendoti passare per una persona cattiva per averle fatte. In aggiunta ad una risposta leggera, devi anche far caso a quelle che sono chiamate risposte indirette. Ora, per avere qualcosa con cui fare il paragone, diamo un'occhiata a questa clip di Emma Stone. Questo è un rifiuto secco. Hai visto un cambio di tono, ma ha dato un rifiuto molto diretto. No, non lo sono. Comparalo con quello di Andrew, che usa invece un'analogia per evitare di dire dire direttamente che non è nel film. Una risposta diretta da solo non basta sempre, ma fai caso a chi ti risponde solo in modo indiretto. Avrei notato anche che si blocca nelle sue risposte, il che non gli succede solitamente. Prova a vedere se riesce a cogliere il prossimo segno di una bugia. L'abbiamo isolato in questa prossima clip, quindi dovrebbe essere abbastanza ovvio. Ti ricorda qualcosa? Lo chiameremo il metodo Bill Clinton, ed è quando qualcuno dice tecnicamente la verità mentre sta cercando di mentirti. Nel caso di Bill ha detto che relazioni sessuali non includevano il sesso orale. Nel caso di Andrew, magari l'ha scoperto tramite il suo agente, tramite un messaggio oppure un email. In ogni caso, se qualcuno usa un linguaggio ambiguo o risponde ad un'altra domanda che non è quella che hai fatto tu, dovresti stare attento. C'è ancora un altro segnale però che molte persone non considerano quando cercano di riconoscere una bugia. Ed è una risata più grossa del normale, specialmente quando è in risposta ad una domanda. Ancora, sta tutto nei paragoni alla base. Quindi facciamo un paragone tra due risate di Andrew Garfield. Prima una genuina, e poi una esagerata. Ora, qui va detto, una grossa risata da sola non implica automaticamente che qualcuno stia nascondendo qualcosa. Magari hanno trovato quella frase semplicemente divertente. Ma dovresti comunque stare attento se vedi una grossa risata dopo una domanda sensibile. Le grosse risate prima di una bugia avvengono per due ragioni. Per rilasciare la tensione nervosa e per bloccarti mentre l'altro pensa ad una risposta. L'ultimo e potenziale indizio a cui far caso è il linguaggio fisico che si chiude. Può essere identificato in cose come ingobbirsi in avanti, guardare in basso o nascondere le mani. Nel caso di Andrew, lo vediamo spesso guardare in basso nelle interviste quando parla di Spider-Man. Ma questa cosa la fa anche in altre interviste. Per cui, anche se evitare il contatto visivo potrebbe indicare che qualcuno sta nascondendo qualcosa, nel caso di Andrew è più un'abitudine. Questo però è qualcosa a cui in generale dovresti stare attento. Un sacco di queste cose che ti fanno sembrare un bugiardo potrebbero derivare semplicemente da una mancanza di sicurezza. Parlare esitando e senza convinzione, guardare in basso, muoverti, nessuna di queste cose da sole garantisce che qualcuno stia mentendo. Ma se ti accorgi di molti di questi segnali nella stessa conversazione, dovresti stare attento. Se queste sono abitudini nervose che temi di poter avere, soprattutto nei momenti come quando stai parlando con qualcuno che ammiri davvero o da cui sei molto attratto, allora potrebbe piacerti il nostro programma, la Carisma University. È un programma guidato passo per passo di 30 giorni, che ti mostrerà come avere una presenza magnetica quando entri in una stanza, come entrare in ogni conversazione con sicurezza e come fare una fantastica impressione su chiunque incontri. Ci vogliono solo dai 20 ai 30 minuti al giorno e avrai anche a disposizione dell'action guide, così saprai esattamente come passare dalla teoria alla pratica. Il programma è sequenziale, con ogni giorno che si collega a quello precedente. Se deciderei di entrare nella Carisma University, avrai anche una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. Potrei andare avanti a parlarti all'infinito del programma e delle sue caratteristiche, ma invece voglio farti sentire l'esperienza di alcuni dei nostri studenti. La prima arriva da un ragazzo che dice che la Carisma University l'ha aiutato nella sua vita amorosa e dice Prima di tutto ho amato il tuo corso, ho imparato diverse cose, ad esempio la lezione sui filtri nel modulo delle conversazioni, quella lezione ha cambiato completamente la mia vita. Mi piaceva una ragazza da un anno ormai, ma non ci avevo dato peso perché temevo fosse troppo carina per me. Dopo le tue lezioni ci ho provato e ora usciamo insieme. La prossima arriva da un ragazzo che ha fatto dei colloqui per un nuovo lavoro e dice Ho fatto dozzine di colloqui in posti diversi per un lavoro dopo la scuola di medicina. Alla fine di uno di questi colloqui il direttore mi ha preso da parte e mi ha detto che in assoluto aveva avuto il colloquio migliore di tutti i presenti e che sarebbero stati felici di avermi nel loro programma. Sono arrivato primo ed ora è il mio lavoro attuale. E quest'ultimo è un commento del corso da qualcuno che l'ha usato soprattutto per migliorare la sua vita amorosa e dice Mi ha cambiato la vita. In sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere il centro della vita di ogni evento a cui partecipo. In più sono passato dall'avere seri problemi con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La Carisma University mi ha trasformato da un introverso solitario che sperava di connettersi meglio con le persone in un estroverso pieno di energia che fa amici ovunque vada. Se vuoi dare un'occhiata al corso non ti resta che cliccare sull'icona che compare ora sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Abbiamo avuto migliaia di studenti nel corso che hanno ottenuto molto e vorrei che anche per te fosse lo stesso. In ogni caso spero che questo video ti abbia aiutato e non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio.